5, 7, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Guarda chi si incontra a 2600 metri su queste dolomiti, il mitico Uba La distorsione è la classica, distorsione di merda Te sempre con la caviaria Ti insegni un po' i due esercizi fatti bene? Mi faccio Quello fa parte dell'allenamento, io dicevo anche Ugo Hai visto che Uba era rigido quanto un bancone Ha iniziato a fare un pochino di stretching e ha migliorato tantissimo Ugo Lini Ma non è che sta parlando uno qualunque eh Sta parlando uno che è il suo mestiere Giovan Giovan come sei? Va bene, basta che mi fa bene dopo, un piccola pausa va bene Dopo anche stasera un po' di ghiaccio Un po' di birra E tu Omar come stai? Io sto bene, ho avuto un po' di sonno prima Non ho sudato per un cazzo Non ho sudato io, adesso non sto ancora sudando Se vuoi i brufi ce lo è? No, non mi fa male Io sto come la piccola a lasciarti Allora siamo ripartiti da Cimabank Abbiamo mangiato, bevuto, ristorato velocemente Fit stop 15 minuti, non viene neanche 15 minuti va bene Cosa sono io la Coca Cola Cosa sono sti ruti? Sti ruti qua Ah beh, vuol dire che funziona E funziona Allora, siamo a 67esimo chilometro E il prossimo incontro per supporto è a Colgallina Quindi a 95esimo chilometro E abbiamo un bel 30 con due belle salite E in più la mitica Val Travenanzes Prima di quello no? Deva farci un bel bagnetto O dopo Abbiamo una salita Poi discesa Val Travenanzes Se si sale poi dopo A Colgallina Magara stua Settantaseiesimo chilometro And it's fucking hot Adesso arriva il bello eh Val Travenanzes Non vuoi schiacciare via Quelli spra La Val Travenanzes Bellissima Manna Fornace Ii Via Oh no ve lo fa sento bello Qui sta dentro? Uuuuh Ahhhh è bello Ah, dopo li buttiamo nell'acqua giù. Ok. Ci stiamo avvicinando a Corroda della Lago, ultimo ristoro di gara, poi tutta a discesa fino a Cortina, tutto bene dai, fatica a stare in giro tante ore, ma va bene. Brava mamma! Brava! Bravi ragazzi! Grazie! 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 Grazie!